E' bravissimo ad acchiappare consenso come i 5 Stelle, ho più dubbi sulla capacità di governo come si vede a Roma e sulla capacità di preparare una squadra di governo che è la sfida che hanno adesso loro e su cui stanno lavorando, non per niente Grillo e Casaleggio sono qui da due giorni, costruire il programma, costruire la squadra, chi la incarnerà, chi sarà il candidato premier? Per molti parlamentari 5 Stelle si augurano, Carla Ruocco me l'ha detto in un'intervista chiaramente, che Alessandro Di Battista sia della partita, cioè che anche lui si sfidi i suoi compagni sul blog dove ci sarà e che si candidi anche lui. Cioè che si candidi alle primarie diciamo per... E molti dicono che visti i consensi che tu stesso hai detto, visto che è quello che ha più qualità su Facebook, te lo fa? Allora si candiderà alle primarie per candidato premier Alessandro Di Battista? Io ho già risposto e non mi ci infilo in questo discorso, io credo che il Movimento 5 Stelle sia cresciuto... Non ci si infila il senso, quindi non risponde su questa domanda, cioè non lo dice? No, perché altrimenti si parla magari della settimana prossima di nomi, candidature, non dei problemi, dei cittadini e delle nostre soluzioni. Non deciderà. Io ho visto che il Movimento 5 Stelle è cresciuto proprio quando si è concentrato sui temi e dice bene la dottoressa Cuzzocrea, noi chiaramente sapendo che questa responsabilità ce la dovremo prendere, io quando sono entrato in Parlamento tre anni fa pensavo di fare opposizioni e riuscire a migliorare la classe politica che appunto aveva fallito in quegli anni. E credo che molte molte indecenze le abbiamo bloccate, abbiamo fatto scuola e palestra tre anni come opposizione. Poi ci siamo resi conto che le nostre proposte appunto più proprio per dei loro vizi non passavano, non perché non fossero gradite. Alle volte copiamo le proposte dai programmi del Partito Democratico o magari del centrodestra e non ce le votano apposta nonostante le abbiamo copiate. E quindi abbiamo iniziato a strutturarci come possibile alternativa di governo. Ci serve ancora un po' di tempo? Stiamo lavorando a ritmi estremamente veloci sulla struttura di una squadra di governo e soprattutto sul programma. Ma voi darete comunque la lista, diciamo che cosa, voi darete la lista, la squadra di governo, quindi i ministri, il candidato ovviamente premier, prima delle elezioni, anche la squadra di governo? Senz'altro il candidato premier, poi magari alcuni ministri molto molto importanti, i ministri più importanti li presenteremo prima delle elezioni. L'appoggio esterno per esempio della Lega Nord, appoggio esterno cioè che vi votano delle leggi, è una domanda kamikaze la mia. Sa, fornigli le leggi per diventare le leggi dello Stato, hanno bisogno del 51% dei voti, per cui se dovessimo arrivare appunto al governo del Paese e ottenere la fiducia da parte delle Camere, presenteremo un programma di governo al Parlamento. Lo vota, lo vota. Antonio Favellaro, veramente vi chiedo uno sforzo velocissimo, scusami Antonio. Allora, l'italicum è l'unico sistema che vi può dare la maggioranza assoluta per il meccanismo che conosciamo, ma se l'italicum non fosse applicabile è evidente che sarebbe difficile per voi raggiungere con altri sistemi, facciamola tanto lunga il 51%, quindi non accettabile nessuna alleanza, questo dicono gli elettori, sarebbe complicato. O vi alleate oppure non governate. Come uscite da questo dilemma? Noi siamo convinti appunto, senza fare alleanze perché la forza del movimento è questa, magari di riuscire a vincere le prossime elezioni politiche quando si voterà. Se lo dovessimo vincere il Presidente della Repubblica ci darà l'incarico di governo, noi formeremo un governo e soprattutto presenteremo una proposta di governo alle Camere, chiaramente dicendo al Parlamento che dovrà fare il Parlamento, cosa che oggi non fa perché il Parlamento approva soltanto i degreti governativi. In quel caso, su un programma di governo, noi crediamo che potremmo ottenere da parte delle due Camere, appunto in una normale Repubblica parlamentare, la fiducia. Dal PD, dalla Lega, dal Parlamento. Ho capito, ma il Parlamento, lei lo conosce il Parlamento. E allora, qualora dovessimo presentare proposte di governo sull'acqua pubblica, sul reddito di cittadinanza, sul sostegno alla piccola e media impresa, gli altri partiti si prenderanno la responsabilità di non appoggiare questo governo. Secondo me questo potrebbe non accadere. Ti ha convinto la risposta? No. Non l'ha convinta, ci fermiamo qua. Grazie ad Alessandro Di Battista, a Antonio Padellaro, ad Annalisa Guzzo Crea.